In Abruzzo la lavorazione del legno si è articolata su tipologie di manufatti estremamente diversificate. Dal mobile rustico a quello d'arte, dagli utensili di uso domestico agli oggetti di intaglio pastorale, dai carri decorati agli arredi di chiese e palazzi, gli artigiani abruzzesi hanno realizzato con il legno opere di grande originalità e pregio artistico.